Assessore Nicola Campitelli, un importante investimento qui nella zona della Val di Sangro, non solo per le infrastrutture ferroviari? No, è per tutto. Soprattutto questo territorio sta riacquisendo un'importanza e una dignità che in passato non ha avuto. L'abbiamo detto dai primi giorni dopo la campagna elettorale che è un territorio importante, la Val di Sangro, questo territorio, questa porzione della regione Abruzzo rappresenta il 40% del PIL regionale. Bisogna dargli la giusta importanza, bisogna investire nell'infrastruttura perché bisogna in qualche modo anche diminuire il gap infrastrutturale che ha la nostra regione anche nei confronti delle altre regioni del nord Europa. Oggi ci sono tantissime aziende che sono qui e che comunque hanno dei disagi per la logistica e per il trasporto merci. Noi dobbiamo assolutamente risolvere questo tipo di problema, aumentare la competitività della nostra regione rispetto alle altre regioni e questo significa sicuramente investire nel ferro. Il ferro è il futuro, lo è anche perché l'Europa sta puntando tantissimo sul trasporto ferro e diminuendo sempre gradualmente il trasporto su gomma. Abbiamo anche un'emergenza climatica in atto, quindi anche questo è fondamentale e fa sì che il trasporto su ferro diventa sempre di più protagonista rispetto a questo tema. L'ho detto già in altre occasioni, non sono un catastrofista, la fine del mondo non è arrivata, però è anche vero che noi che amministriamo e dobbiamo programmare il futuro anche dei nostri fili, dei nostri voti, dobbiamo mettere in atto tutte le nostre capacità e gli atti che possano far sì che la regione Abruzzo possa trovare il giusto equilibrio tra le esigenze antropiche e le esigenze della tutela del nostro pianeta.